Let's go No, mi sa che abbiamo sprecato Ma cos'è? Let's go, signori, let's go Attenzione, elmo Attenzione, elmo Niente, ci ho provato Bella lì Sì, sto facendo l'ecotormentato Andare l'è stato davvero facile Lui è più complicato ma per il veleno Non tanto per chissà quale grandi meccaniche Cioè ogni volta che mi dà lui di veleno Mi caccia l'ira di dio Non posso ancora farlo Mi serve più tempo Sì, sto facendo la procedura a bisogno di tempo per ricaricarsi lui è cattivo è molto cattivo ha bisogno di tempo per ricaricarsi e anche uberduriel è andato forse è barbaro però il druido non è neanche malvagio perché pure quello è abbastanza divertente dipende dalla build che fai ma come faccio a sapere quale ti può piacere di più perché dipende molto dai gusti personali boh io in questo momento non giocherei druido perché mi annoierebbe un po' di più forse è barbaro perché con la bash è già qualcosa di diverso però è personale ripeto non ha niente a che vedere con quello che sia quello che è il gioco davvero perché mi serve più tempo non posso ancora farlo yes let's go scarlettina let's go è una volta che ci siamo ci facciamo va bene è un po' di più è un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho capito. No, dall'altro lato. No, dall'altro lato. Non posso ancora farlo. No, dall'altro lato. No, dall'altro lato. What? Quanto gli abbiamo fatto per ucciderlo così? È stato one shotato appena è arrivato nella barra bianca. Celeste, quello che è. Vabbè. Allora, andiamo pure del nostro caro e non amato Grigori, che non troppo mai nulla di interessante. Mi serve più tempo. Mi serve più tempo. Let's go. Mi mancava solo lui. Andiamo. 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 scarlettina balla sul cadavere o quasi cadavere di Lilith nice streak non posso ancora farlo mi serve più tempo mi serve più tempo see you Lilith bella lì see you guys bella lì